Sono mesi che cercavo uno sgabello da usare durante i concerti e non ne ho trovato nessuno in giro nei negozi. Questo Harley Benton arriva da Thoman, l'ho visto in vendita solo lì, costa soltanto 35 euro e appena arrivato ti faccio vedere come funziona. Lo apri, lì puoi anche inserirci la chitarra o il basso. Si estrae questo stand, molto comodo. Qua ci metto il basso. Lo sgabello mi è sembrato molto solido. Lo apro e lo chiudo con una mano sola, però il metallo è bello resistente. Ecco, poi si ripiega e diventa molto sottile in modo da poterlo caricare in macchina tranquillamente.